Cosa è successo a Rappallo? C'è una signora, racconta, è andata con la famiglia una sera, un sabato sera a mangiare la pizza in una pizzeria e essendo che questa pizzeria ha quelle scritte, le cosiddette vetrofanie, dove si accettano i ticket restaurant di un certo modello lei ne aveva alcuni di questi ticket restaurant e quindi al momento del pagamento che cosa ha fatto? ha dato questi ticket restaurant che sono degli assegni, è denaro, non è un chissà che cosa il proprietario ha detto no, cara signora purtroppo, a parte che si conoscevano fin da bambini, comunque ha fatto finta di niente gli ha risbattuti in faccia, no, il sabato sera solo in contanti, tutti gli altri giorni si accettano, il sabato sera no questa signora non ha voluto fare polemica, ha pagato in contanti, però ci è rimasta male perché? Perché in effetti chi accetta di prendere questi ticket ha delle regole da seguire sia ben chiaro, non è obbligato a prenderli, uno se vuole li accetta e mette la scritta e fa un contratto se non li vuole nessuno gli dice niente, non fa nessun contratto, non mette nessuna scritta chiunque si presenta con i ticket dice guarda io non li prendo, si rivolga al negozio davanti al locale davanti loro li prendono, sia ben chiaro adesso nel momento in cui si accettano, si accetta il contratto con quella società che emette questi ticket c'è un regolamento, naturalmente c'è che vengono accettati sempre, non esiste un periodo dell'anno dei giorni dell'anno, delle ore dell'anno dove questi ticket non possano essere accettati devono essere accettati sempre, questo è un dato di fatto quindi la signora ha ragione, nel sito è emerso anche il nome del locale per fare pubblicità negativa cioè chi legge sa che in quel locale ci si comporta non in maniera corretta e quindi valuterà se andarci o non andarci